Musica Oggi vi hanno illustrato il progetto del palazzetto, che impressione avete avuto? Ah, molto positiva, a questi tempi parlare di palazzetti in costruzione è una gran bella cosa, specialmente su Sanremo che praticamente non ha un palazzetto, quindi se si riesce a costruire è una gran bella cosa. Cosa rappresenterebbe per voi avere uno spazio così? Beh, intanto un posto degno per fare delle manifestazioni, cosa che in questo momento non esiste in provincia di Imperia, fatto eccezione per il parasporto di Imperia che comunque ha problemi di utilizzo, perché è sempre impegnato. Quindi avere un posto dove fare eventi. Come siete rimasti adesso con il Comune? Vi hanno illustrato il progetto poi? Adesso si spera che partiranno per costruirlo, io spero in quello, coinvolgendo il CONI, le federazioni, e le società qua di Sanremo. In generale l'impressione delle altre associazioni qual è stata? Le altre non lo so, io rappresento la ginnastica e noi siamo più che contenti, anche perché qua a Sanremo comunque ci sono cinque società affiliate alla federazione, quindi avere uno spazio così significerebbe tanta roba. Grazie. 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 Grazie.